buonasera amici spettatori benvenuti alla terza puntata di mondo futsal questa sera siamo in compagnia di ma tu volevi fare la puntata senza di me ci sono anch'io ragazzi questo è il mio lavoro conduco io roberto martin il mio compagno a parte gli scherzi ragazzi benvenuti in questa nuova puntata di mondo futsal io ci tenevo prima di cominciare a fare due complimenti in primis a max verstappen che è diventato campione del mondo di formula 1 e al tuo duo sinner berrettini pensaci tu qui i complimenti sono superfi comunque penso che abbiamo una nazionale che ci farà togliere parecchie soddisfazioni anche nell'immediato futuro insomma dal ciclone sinner è tutto quello che ne consegue anche soprattutto nel femminile con la bilgin cup io penso che ormai siamo la società la società una nazione leader per quanto riguarda il movimento tennistico mondiale quindi ci li godiamo e ci li godremo in futuro anche con gli atp finance fino al 2030 a torino quindi questo buona si pari a inizio a tutti con verstappen non mi sta simpaticissimo se è stato condizionato dal nostro amico che ha partecipato alla scorsa puntata che è un tifosissimo anche perché insomma come abbiamo visto pure nella finale sempre della coppa davis gli olandesi non sono proprio simpaticissimi anche se io sono un amante dei colori orange a prescindere sì a parte questo piccolo siparietto che comunque era per ricordare a tutti che noi siamo futsal ma siamo anche tutt'altro siamo tuttologi passiamo al nostro argomento principale al futsal e io partirei con questa roma che è in netta ripresa dopo la vittoria di avellino ha riuscito a battere anche la fortitudine di cicciangelini 5 a 2 una partita vivissima bellissima azioni da una parte e dall'altra c'è stato tanto equilibrio e poi c'è stata la tripletta di marcelinio che e beh penso che diciamo ritrovare questi nello scorre e questi giocatori principali siano fondamentali un po per tutte le formazioni sotto e anche anche ovviamente anche per la roma 1927 futsal non certi giocatori non possono stare fuori dallo scorre perché significa poi difficoltà anche se il futsal lo diciamo sempre ha caratteristiche diverse ma i capocadronieri sono quelli poi che decidono le gare eh sì è anche una tripletta importante perché serviva secondo me incidere in questo modo per riuscire a sbloccarsi in questa stagione come ha fatto fortino anche sì sì ma sono giocatori che sicuramente non scopriamo adesso sono giocatori su cui le società fanno un netto affidamento ne abbiamo visti tanti questa settimana che hanno scaldato i motori e anche questa volta vi dico ci arriveremo con calma e vince ancora la fel di eboli 4 a 1 ennesima vittoria tranne quel quel neo che quel pareggio che c'è stato e prima in classifica guarda tutte dall'alto e qui io ti voglio sottolineare il lavoro che già si vede di mister antonelli se il disco il lavoro si vede ma è una squadra che non deve meravigliare mai perché comunque quello deve essere i posti il posto che ricopre il vertici i vertici di classifica perché è una squadra che ha dimostrato nell'arco di ormai due tre stagioni di meritare di stare sempre ai vertici sì sì no dicevo parlando di antonelli perché diciamo che è il nuovo di questo campionato a parte marin che già aveva allenato in italia no per lui è la prima esperienza quindi è sempre difficile ci vuole del tempo per carburare invece qui non ci sono problemi perché già sta facendo esprimere il suo futsal al meglio ma guarda io penso che gli allenatori hanno un ruolo importante ma dipende molto dai giocatori che hanno nel roster a disposizione qua scavaccando un'altra volta la nostra disciplina andando a pescare nel nel discorso del calcio a 11 proprio sono recenti le dichiarazioni di pep guardiola che dice adesso che sta in forte difficoltà ridatemi i quei giocatori e rivedrete il vero city vero e invece pirossigeno sfortunata perché almeno a mio avviso ha raccolto meno di quello che ci ha dimostrato sul campo un solo punto è vero che in questo sport può cambiare tutto da una giornata dall'altra basta quella vittoria che ti dà il via e poi puoi sistemare tutto qui però c'è un grande lavoro che è stato fatto in estate un grande mercato hanno preso cabeza che sta dimostrando tantissimo l'unica cosa sono i risultati robbie ma i risultati molte volte nell'arco della stagione ci sono dei periodi un po più sfortunati o dei periodi in cui magari anche l'inesperienza o comunque anche la differenza dei valori dei giocatori perché tu parli di sfortuna ma la sfortuna molte volte viene veicolata la fortuna aiuta gli audaci e la sfortuna tocca a quelli che rimangono nel senso che molte volte l'episodio favorevole o sfavorevole viene deciso dalle giocate dei campioni e magari in quel contesto anche giocatori di qualità che è appena citato non fanno la la giocata decisiva e la fa l'avversario e perdila magari per un gol gol di tanti campioni ce ne sono stati al pala catania perché la meta ha vinto 8 a 1 contro il benevento un appunto come fatto di settimana scorsa hanno segnato sette giocatori diversi quindi mister warra sarà felicissimo già l'ha dimostrato lui crede molto nella forza del collettivo nella rotazione io penso che il lavoro di warra quest'anno si vedrà in modo maggiore tra l'altro c'è sempre per il catena ricordiamolo l'impegno della coppa di champions league e poi musumeci che fa 200 gol con con la maglia rosso blu e questa è una responsabilità forse per lui perché quest'anno diciamo che è al centro del progetto di san peri sta giocando la champions league e sta facendo la serie a da campione d'italia no quindi è un po l'anno in cui deve dimostrare di non essere soltanto un top per diventare una leggenda anche del calcio del futsal italiano pardon ma io credo che lui un percorso già importante l'ha fatto è sicuramente una delle delle basi della nuova nazionale di salvatore samperi che tra l'altro lo ha avuto anche con il suo giocatore quindi credo che ci punti molto diciamo può essere considerato un fedelissimo e sentiamo anche che cosa ci ha detto carmelo musumeci ai nostri microfoni ciao carmelo guarda innanzitutto voglio chiederti che emozione è stata insomma quando hai realizzato di aver segnato il duecentesimo gol con la maglia della meta catania se era un obiettivo oppure forse lo era diventato con il tempo ciao vale allora per quanto riguarda i 200 gol devo essere sincero non sapevo neanche che ero arrivato a quella cifra mi è stato detto poi dai dirigenti e dal dal ha detto stampo che a fine gara appunto che avevo fatto i 200 gol e questo perché non non è stato mai una mia priorità è chiaro però che ero molto soddisfatto e felice perché comunque resto sono legato a questa società a questa squadra e quindi restare per sempre no scritto in queste pagine è una cosa che mi rendo orgoglioso però ti ripeto non è stato mai una mia priorità la mia priorità principale è stato quello di rendere grande aiutare a rendere grande questa società questa squadra con vittorie importanti significative come quella del campionato e questo ecco invece un punto di vista su questo inizio di stagione diviso tra serie a e champions league che probabilmente vi ha portato via qualche energia di troppo per via dell'impegno e voglio chiederti cosa significa per te indossare la maglia rosso blu in europa in champions sono sicuro che molto probabilmente se fossimo impegnati solo sul campionato potevamo avere qualche punto in più però che ben che ben venga questo cioè partecipare a ciment sono il torneo più prestigioso al mondo il compromesso è quello giusto quindi siamo felici anche del sia del percorso fino ad oggi fatto in campionato sia in quello che stiamo facendo in ciment e ora che questa settimana appunto siamo qui in spagna e vogliamo continuare a sognare vogliamo continuare a stupire e quindi metteremo tutti noi stessi perché noi ci vediamo realmente sarebbe un'impresa storica quella di arrivare alla final foro dicendo quindi siamo siamo qui per siamo qui pronti per scrivere altre pagine importanti almeno ci proviamo poi comunque vada sono sicuro che lasceremo tutto in campo e saremo soddisfatti e noi ovviamente ce lo auguriamo carmelo e per ultimo ti chiedo vi siete posti qualche obiettivo non a livello di risultato ma a livello di squadra per questa esperienza e poi per quanto riguarda gli obiettivi che ci sono posti è quello di andare più avanti possibile come ti dicevo nel vocale precedente e comunque vada da da questa esperienza tutti i benefici che ti può dare perché ti confronti con società forti squadre forti e giocatori forti e quindi alzare ancora di più il nostro livello però è chiaro che il nostro obiettivo principale è quello di andare avanti allora ringraziamo carmelo musumeci per il prezioso contributo e poi ti faccio una domanda importante alessandro dimmi come hai visto la vittoria dell'ital service pesaro e l'ital service pesaro vince una partita importante perché è la prima vittoria in campionato dopo una partenza diciamo sottotono perché forse come dicevi anche te quando incanali un periodo negativo poi sembra che la sfortuna ti perseguita no invece sono riusciti a trovare questi tre punti i primi della stagione e a togliersi magari da quelle posizioni che che po scomode un po scomode che rischi di portare avanti per troppo tempo no tu come li hai visti e io credo che ci vuole tempo ci vuole tempo per tutte per tutte le formazioni anche quelle diciamo di vertice che già invece sono un po più quotate e hanno più diciamo una classifica migliore però abbiamo visto che tutte le squadre si giocano la partita alla morte e anche senza pronostico assistiamo a partite equilibrate o a grandi sorprese grandi sorprese ma io forse lo so tu che intendi perché c'è stata un match su sky l'ultimo match della giornata l84 sandro abate con partitone partitone è assolutamente si è stato stato un match una gara dai due volti inizialmente è partita l'84 e poi la rete di piero basile è stata fondamentale sono saliti in carta tra due giocatori su tutti i cui canci e canci i canci veramente mi ha impressionato notevolmente e te lo dicevo a inizio stagione notevolmente è stata una bellissima partita ben combattuta da tra due allenatori che si conoscono molto bene paniccia vive un momento di appannamento della sua squadra e si anche a livello ambientale c'è stata parecchia contestazione durante contestazione no ma comunque hanno richiesto la tifosiria ha richiesto un attaccamento un po di ritrovare quello spirito esatto uno spirito un po maggiore però canci tanta roba non non si prendeva e mi ha sorpreso in positivo anche il portiere parisi no io vorrei aggiungere che secondo me sono più in meriti della sandro abate perché anche la anche l84 ha fatto una partita dignitosa sì sì solo che come dici te sono saliti in catte da quei giocatori che quest'anno stanno stupendo quindi c'è poco da fare è stata una partita molto intensa e secondo me ben giocata da entrambe le squadre ovviamente l'avellino che cosa che cos'è questo un quiz non si poteva chiudere la puntata senza il quiz del giorno giusto il quizzone ci arriva dalle tenebre allora sì dobbiamo scegliere la nostra start five abbiamo due scelte per ogni ruolo e ci hanno messo subito in porta bello buone Mammarella che è stato un po napoli genzano che non ne abbiamo parlato perché non possiamo parlare ogni volta di tutto ma va fatto questo questo è stata una parte una partita che è finita 1 a 0 perché hanno inciso parecchio e tu scegli tra i due ma ho visto un paradone Mammarella però con Mammarella siamo monotoni e stavolta cerco bello buono anche ma anche bello buono ha calato una grande parata durante il match e anch'io anch'io confermo come è bello buono e poi e spindola della feldi che ha fatto doppietta si è stato incisivo su su 4 a 1 finale o igor fernandez dello sport in sala consiglina questa è una bella scelta questa è una bella scelta io forse ecco per per anche per il fattore classifica per quello che ha determinato ti dico e spindola si e spindola dai e spindola va bene poi ce ne fanno ce ne fanno scegliere uno del vinum italy un laterale tra molaro e lipe mello e questa è veramente dura come scelta perché sono due giocatori che hanno fatto tripletta in questa giornata mello e allora io prendo molaro da per differenziare se no facciamo tutto uguale l'altro laterale barichello kenji ma io penso che tu già hai risposto kenji proprio non si prendeva quindi io io confermo kenji ma anche barichello in questa stagione sta facendo vedere tanta tanta roba come ha detto anche il nostro alessandro chito mascolo nella scorsa puntata chito la salunga chito la salunga sempre e davanti marcelinio della roma che ha calato anche lui una tripletta oggi a vado arte che ha deciso il match più importante la dinamica la dinamica di marcelinio visto che era che è stata secondo me una grandissima prestazione diciamo una prima grande prestazione ma segno in questa stagione con cui ha avuto un impatto devastante sulla vita e come dicevamo era quella prestazione che gli serviva anche per sbloccarsi penso che dalla regia siano contenti che abbiamo completato il quiz noi vi salutiamo vi diamo appuntamento alla prossima puntata sperando che il nostro roberto non ci faccia altre sorprese non mi rimpiazzi ma non ti rimpiazzerò non ti preoccupare buonasera buonasera a tutti e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti 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 ciao a tutti